Giorno 8 ci sarà il gemellaggio con la città di Luiz Eduardo Magalèche, che è una città brasiliana che si trova nella regione di Bahia, Nord Brasile. È un progetto, quello del gemellaggio con la città di Luiz Eduardo, un progetto molto ambizioso. Intanto arriva a conclusione di un lungo rapporto con i cittadini brasiliani presenti nel nostro territorio, in quanto richiedenti la cittadinanza italiana in applicazione della legge Iurisanguinis. Quindi il legame col Brasile parte dalla presenza di tanti brasiliani a Varapodio che negli anni hanno popolato il nostro paese. Con alcuni di questi abbiamo intrapreso delle relazioni che andavano al di là della semplice cittadinanza, quindi abbiamo costruito dei rapporti anche con le istituzioni brasiliane e soprattutto abbiamo legato con questa importante città del Brasile, una città di 100.000 abitanti che ha delle attività fiorenti, è una città molto ricca, quindi diciamo una città importante e per noi è un grande orgoglio legarci con una città di queste dimensioni. I rapporti con le istituzioni brasiliane vanno avanti ormai da mesi e adesso siamo alle battute finali, quindi giorno 8 firmeremo il progetto di gemellaggio che è un progetto sociale, culturale, economico e che ci proietterà nel futuro in quanto apriremo delle sinergie e daremo anche la possibilità agli imprenditori italiani di avere una corsia preferenziale, privilegiata per intraprendere rapporti con il Brasile e altrettanto noi saremo a disposizione per le imprese brasiliane che vorranno venire in Italia ad investire. Quindi questo progetto lo portiamo avanti con orgoglio e siamo sicuri che il territorio italiano per quanto riguarda la parte varapodiese, calabrese, trarà grandi benefici anche in termini di crescita perché ci sono tanti brasiliani che hanno voglia di riabbracciare le origini perché in Brasile ci sono 20 milioni di italiani residenti che in parte hanno voglia di ritornare, anche venire a vivere nel nostro territorio e in effetti parte di questi già lo hanno fatto perché abbiamo dei cittadini brasiliani che sono residenti nel nostro comune e quindi questo è un fattore di crescita demografica per il nostro paese. Pertanto questo progetto va avanti e sarà anche interessante a vedere gli sviluppi che porterà in termini demografici, sociali, economici, culturali e via discorrendo. Quindi siamo felici di quello che stiamo facendo.